Un incubo si è abbattuto sulle cucine del bel paese. Che schifo, guarda qua. Che bello nel diavolo. Cuochi incapaci. Parma mia al Bostic, questi cazzi. Ristoranti in crisi. La cucina è chiusa. Questo è un lavoro per il supereroe della cucina, Antonino Canavacciuolo. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo. Guarda, questa c***a di Roma. Viene da piangere. Cucine da incubo, la seconda stagione. Da venerdì 7 novembre alle 21.10 su Cielo. Addios.